Musica Oh Oh Finalmente ci siamo Madonna quanto cazzo di tempo è passato È passato un mese Forse pure di più No vabbè dai non esageriamo Circa 4 settimane e un mese dal mio ultimo video Ches ma che cazzo di fine hai fatto Ches ma dove sei stato Sei partito per un lungo viaggio Dove cazzo sei andato Io ero sempre qui Però ci sono stati dei problemi belli pesanti Che non mi hanno consentito di portare dei video E questo penso che ognuno l'aveva capito Almeno a chi sono mancato Poi chi invece ha goduto Di questa mia assenza Beh allora pazienza mi scende una lacrimuccia E basta così Però oggi sono qui per raccontarvi In questo vlog di fine mese Che dovrebbe essere un vlog di fine No basta questo è un vlog di fine anno Perché ormai è finito l'anno Che cazzo di vlog di fine mese è Arriva Natale No in realtà non è di fine anno Benvenuti in questo vlog di fine mese Sto cambiando idea ogni due secondi Perché volevo fare un altro Cosa di questo tipo Magari non so Riassunto più tardi Verso proprio la fine dell'anno Anche se non so se ne avrò il tempo Vedremo Allora In tutto questo mese di dicembre Che cosa ho fatto Per non riuscire a pubblicare video Allora lo scorso video E se non sbaglio Quello dell'unboxing Di Pokémon Sole e Luna Quindi uno ha pensato Che in teoria Nei giorni successivi all'unboxing Io avessi effettivamente Giocato Pokémon Sole e Luna E' successa questa cosa? Sì Ma per poco tempo Perché poi sono Si sono susseguiti proprio Uno dietro l'altro Una serie di compiti Interrogazioni Verifiche Che voi non potete nemmeno immaginare Sono stato proprio Ultra impegnatissimo Con Sai esclusivamente con la scuola Cioè non c'era nient'altro Che mi impedisse A fare Diciamo I video Se non appunto La scuola Interrogazioni Compiti Verifiche di vario tipo E si è messo in mezzo Anche l'orientamento Che sarebbe quello Che facciamo noi Delle classi superiori A quelli più piccoli Per fargli capire Che scuola scegliere E noi ovviamente Pubblicizziamo la nostra scuola E questo mi ha impegnato Oltre che anche Il progetto di fine anno Infatti La cosa importante Di tutto questo ragionamento Il punto dove voglio arrivare E che E' anche un po' colpa mia Perché non sono riuscito Ad organizzarmi bene Nel corso del tempo E quindi di conseguenza Non sono riuscito A conciliare YouTube E scuola E di questa cosa Purtroppo ne sono Poco fiero Perché Non poco fiero Ma poco fiero Perché Mi dispiace Avrei potuto Organizzarmi meglio Forse Però al tempo stesso Non è del tutto Colpa mia Perché le cose Erano così tante Che era impossibile Non farsi l'arretrato Alle materie E quindi E' per questo Che al tempo stesso Impossibile Non riuscire A portare video E purtroppo Alla fine è andata così E pazienza Oggi sono qui Per riprendere Speriamo Questo canale Definitivamente Ovviamente Io già ve l'avevo detto Non abbandonerò mai Questo canale Non succederà mai Però ci saranno Sicuramente Penso che Probabilmente Verso la fine dell'anno Ci saranno dei momenti Di pausa Perché questo fine anno E' l'anno che coincide Con la mia maturità E quindi sarà molto difficile Riuscire a pubblicare video In quel periodo E se non ci sono riuscito adesso Che è il periodo clou Del primo quadrimestre Figuratevi a fine anno Quindi io non lo so Solo immaginare Mi dispiace di questa cosa Però sappiate che Non è una bada Aspettate che mi soffia il naso Perché c'è da dire Che in tutto questo Mi è anche venuta la febbre E una specie di bronchite Non so come cazzo si chiama Però comunque Se lo sto cuorendo Non manca molto Quindi è stato tutto un mix Che giusto giusto Nel mese di dicembre Che è il mese più proficuo Per i video Non mi ha fatto pubblicare niente Cioè Il mese di dicembre È così ricco È così pieno Cioè Devi per forza pubblicare a dicembre Se non pubblichi a dicembre Sei un pezzo di merda E invece io sono un pezzo di merda Perché non ho pubblicato a dicembre Non ho approfittato Del grande flusso di utenti Che c'è a dicembre Sta di fatto che abbiamo Quasi raggiunto I 1800 iscritti Senza fare video Cosa? Cioè Abbiamo quasi raggiunto I 1800 iscritti Senza fare video Per oltre 3-4 settimane Questo vuol dire Che la gente comunque Guarda i video Si iscrive Serando In attesa Di un probabile video nuovo Eccolo qua Ci siamo Siamo arrivati Oggi però sono qui Non solo per parlare Perché altrimenti sarebbe Un vlog abbastanza noioso Ma sono qui per farvi vedere Anche alcune piccole clip Che durante la mia Intensa vita scolastica Sono riuscito a Registrare Queste clip diciamo Le ho registrate Ho fatto esclusivamente Così per cazzeggiare E ovviamente anche Con lo scopo di inserirle In un possibile vlog Adesso vi farò vedere qualcosa Però prima Un ultimo avviso fondamentale In questi giorni È vero che sono stato in attivo Su Youtube Ma su Facebook No Io ho una pagina Facebook Che si chiama Chestnotics Dove per tutto il mese di dicembre Certo c'è stato Tipo un periodo di una settimana In cui non ho pubblicato niente Comunque spesso Pubblico video Aggiornamenti Dove spiego un po' Che cosa sto facendo Tipo ad esempio Dove sono arrivata A Pokémon Luna Perché dovete sapere Che Pokémon Luna Non l'ho finito E volevo approfittare Di questi giorni Per poterlo finire Perché solo qualche giorno fa Ho consegnato il progetto Ed è stato il mio ultimo giorno Di scuola Quindi ancora Un qualche giorno Cioè Questi ultimi giorni Qui me li sono presi Proprio di riposo assoluto Cioè Sembravo un ghilo Dormivo la mattina alla sera Perché mi serviva proprio Avevo troppe ore di sonno arretrate Quindi siamo pronti Per vedere qualche video Io ce l'ho qui davanti Però voi ovviamente Li vedrete dopo Allora Prima di tutto Questo è un vlog Che ho realizzato Il mio primo vlog in assoluto Quindi abbiate che da Per favore Vlog all'esterno Il mio primo vlog in assoluto Che ho realizzato Insieme ad altri miei amici di classe Un giorno Che siamo andati a fare Un'uscita Se non sbaglio A Foggia Per una specie di orientamento Per l'università E vabbè Ve lo faccio vedere Questo è il nostro primo vlog Ma Mario mi tu Ah che bello Aspetta che Non sono esperto Se di qua mi pare Che il microfono Si sente meglio Mario gioca a Pokémon Go Sono ritardato Oh Mario Ebbene sì Mentre registravo Purtroppo L'ho messo al contrario Credendo si Sentisse meglio Vabbè Sono stato costretto A raddrizzare adesso In post produzione Oh perfetto No ma perché si mette il dito davanti Che sai che è uscito scritto Spazio in giustizia E ho qui il telefono buro Buongiorno a tutti Non bestemmiate per favore Che devo censurare Grazie mille Come al solito Ma io mi sa che devo girare Un'altra volta Il me del futuro Rimpiangerà a questi momenti Ma perché Mi sei metto il dito davanti al microfono Poi non si sente Non so come prenderlo Se faccio così No non va sull'ora Porco Abbiamo fatto anche La trasciata di oggi Oh che top Che benessere Dove stiamo andando Aspettate che ve lo faccio vedere Sai zitto Stiamo andando Versa le giostre No non è vero Viva la figa Mangano forza Mangano forza che io odio Forza foggia Sta poco Oh top No il ramo di giusto Mettete dislike No Mettete dislike Sì No Seguite Che è un figlio di puttana Grazie mille Addio Ecco e quindi Vabbè lasciate perdere un po' il linguaggio Ma noi scherziamo molto spesso tra di noi così Quindi spero non vi sentite Non vi sentiate diciamo colpiti da quelle parole Ma spero che capiate che quella è tutta ironia Insomma io so benissimo Cioè noi scherziamo molto spesso tra di noi così Quindi spero che capiate Anche perché non mi stavano assolutamente offendendo Perché io ovviamente Li conosco da Poi ho fatto anche una Bloc Ho fatto anch'io Una bottle flip challenge epica Finita male E non lo scriverò nel titolo Perché non voglio diventare un tumore Come ultimamente È diventata YouTube Italia Sti cazzo di video Di sti ritardati Che fanno con sta bottiglia Anzi specialmente HiPileBoyTV E Simone Santin Là come cazzo si chiamano Che fanno Epica Freeze Bottle Bottiglia così Bottiglia con la Bottiglia così Ma andate a fanculo Cristo santo E trotti coglioni Anch'io però Sull'imitazione Per prendere un po' in giro Queste cazzo di Flip Bottle Flip Challenge Ho fatto la mia versione In classe Vai Extreme Flip Bottle Challenge So come Ecco appunto Questo per farvi capire Che mi sono lotti coglioni Di vedere sti video In tendenza su YouTube Per favore Per fortuna ogni tanto Esce un video di YouTube In tendenza Però per favore Sti video no Tanele in accesso Cazzo di canali inutili Ora invece Sempre ultimamente Visto che Clash Royale Ormai è da tanto tempo Che non lo porto Ho deciso di registrare Una piccolissima clip Come feci un po' di tempo fa Dove ho aperto Un baule magico In realtà Non Non l'ho fatto vedere Sin dall'inizio Perché ero sicuro Di non trovare nulla E invece È attivo Ok allora Abbiamo aperto Un baule magico Sono uscite 4 epiche Sappiamo benissimo Quello che ci aspetta 3 Lui è acceso Di ghiaccio Che cazzo me ne devo fare Di un altro mago di ghiaccio Io volevo O il tronco O la principessa Che sono O il minatore Volendo Ma quasi preferisco Più la principessa O il tronco Forse più il tronco Che la principessa Perché il tronco Veramente Madonna ragazzi Quanto cazzo è forte Altre novità importanti Che volevo farvi vedere Direttamente da qui Perché mi rompi i coglioni A fare la grafica A fare tutto Per farvi vedere Solo sto piccolo spezzone Mi sembra abbastanza stupido Volevo solamente Farvi vedere un po' I miei progressi Di gioco Su Clash Royale Perché mi sa Che l'ultimo video Risale proprio Al fatto che io Sia salito in arena Leggendaria Ma ultimamente La situazione è cambiata Clash Royale è stato L'unico gioco Che sono riuscito A portare avanti A differenza di Pokémon sole e luna Perché Clash Royale Ci giochi 2 secondi 2, 3, 5 minuti 10 minuti Pokémon sole e luna Non puoi metterti A giocare 5 minuti E spegnerlo È una cosa così triste Che mi mette depressione E invece Clash Royale È possibile giocarlo così E questo infatti Mi ha permesso Di fare qualche cosa Tipo ad esempio Di raggiungere Un punteggio Penso che voi sapete Il fatto del baule del clan Penso si veda anche Noi siamo a livello 8 o 9 circa Non mi ricordo Sì livello 8 Quasi livello 9 Speriamo ad arrivare al 10 Però nel frattempo Sono successe cose Molto interessanti La prima è che sono No 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 Stop Che cazzo succede È esploso tutto Ha voluto esplodere tutto Va bene Non mi apica niente La prima cosa È che sono a 3.000 Non so se si vedrà bene 3.927 coppe Un traguardo di coppe Assurdo Epico Finito male Che non avrei mai pensato Di raggiungere Ma che sono riuscito a raggiungere Grazie modestamente Alle mie capacità E grazie a questo deck Che è da tempo Che utilizzo Oggi ho anche fatto La sfida dello stregone Quella lì Dove bisogna vincere 12 volte Indovinate un po' A che numero di vittorie Ho perso È stata veramente Una cosa tristissima Ma proprio triste 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 Perdere in queste condizioni Per colpa di un ritardato Giapponese Che sono sempre loro Cristo Sono sempre loro A rompere i coglioni Però mi dispiace Però comunque Questo baule contiene 14.000 Perché bisogna comunque Pagare 100 gemme Per fare sta merda Questo baule contiene 14.200 monete E 670 carte Quindi sti cazzi Cioè È bello grande Penso che ve lo farò vedere Poi l'apertura In un video di Clash Royale Beh Mi sembra ovvio E lo devo farvelo Devo mettere nel titolo Miggi Ho perso A sole due sconfitte E magari ho trovato Il mago D'Eletro Là Come cazzo si chiama L'ho trovato lo stesso XD Madonna Quante views Il sapore della tendenza No non è vero Scherzo Sto scherzando E poi L'ultimo video Che volevo farvi vedere È un altro vlog Un'altra clip Che ho fatto ultimamente Quando sono andato a mangiare Da McDonald's Ultimamente Proprio Questo era ieri O l'altro ieri No l'altro ieri Mi savo Proprio recentemente E siccome un mio amico Ha preso l'epicoso Là dove escono i pokemon Giusto per provare Per scherzare Ed è uscito Un tumore Vi lascio al video Ciao a tutti Sono CessnotX E questo oggi Siamo al McDonald's C'è un po' di gente E oggi siamo qui Per fare un bellissimo Chest opening Di questo coso Che ha comprato Un mio amico Perché io non compro Gli Happy Meal Ma come cazzo puzza Ma vaffanculo Aspettate Aspettate che vi faccio vedere Anche la mia faccia Non si può vedere la faccia Me la faccio vedere così Allora Visto che c'è uscito Scrunky Sicuramente la carta Sarà di Pansage Ovvio Eccolo qua No veramente Esce una carta diversa Che è che è Esce la carta di Miao Non so mai come chiamarla E file Il cazzo Oh ma riesce a mettere a fuoco Il suo cellulare di merda La carta di Miao Ultra rara Poi L'epico Adesso posso mettere il titolo Clickbait Te ti piace la carta clickbait Analizziamo meglio Scraghi nel frattempo Tanto abbiamo anche qualche minuto Questo tutto nel vlog di fine mese Bello schifo Bello schifo Bel tumore La carta di Miao La carta La carta di Miao Le lo vuoi dare No Le lo vuoi dare Dale al bambino Perfetto Perfetto Abbiamo appena regalato una carta al bambino Ecco Adesso è più contendo Io invece no Bene Visto che non so come si attiva la fotocamera fondale Vi saluto Addio Ecco appunto Cioè peggio di così Poi come se non bastasse il bambino Si è fottuto pure la carta sbrilluccicosa di Miao Io non capisco un cazzo di rarità Quindi non so nemmeno che cosa sia Presumibilmente è poco rara Però Oh Era sempre qualcosa No Il ragazzino si è voluto fottere la carta Che poi perché si è voluto fottere proprio la carta E non il pupazzino Che il pupazzino Tu dici Vabbè Il bambino ci gioca più col pupazzo Della carta Che cazzo se ne deve fare Questo ci fa capire Com'è cambiata la società Com'è cambiato il mondo Da quando Stepney Anima E tutti quei là Quelli youtuber Molto molto qualificati In ambito pokemon Hanno cominciato a pubblicare Gli spacchettamenti Delle carte pokemon Tutti i bambini Devo comprare anche io Le carte pokemon Che bello Vediamo Spacchettamento X di tendenza Madonna che due coglioni Ecco allora perché Io poi ci ho pensato Ecco perché quel bambino ha chiesto La carta e non il pupazzo Perché vede i video Di quegli incompetenti Che non capiscono Un cazzo di pokemon E si comprano Lo stesso le carte E vanno E se le guardano 400-500 mila persone Con i video Senza Io non riesco a capire Il motivo di questa cosa Per carità Sono contento Che i pokemon Facciano andare in tendenza Però in mano A delle persone Che non capiscono Un cazzo di pokemon Mi fanno solo incazzare Ecco quindi allora Perché il bambino Voleva la carta E non voleva il pupazzo Io poi ci ho pensato E' colpa di questi youtuber qua Per cui le carte Adesso sono diventate famose Allora io già Vi avevo chiesto Questo fatto del TGC Se volevo portarlo o no Io a me sinceramente E' una cosa che Per adesso non mi sta Molto simpatica Però volevo comunque Iniziarla con voi Per vedere insieme a voi Se mi piace o no Se poi dovessi rompermi I coglioni Allora non lo porterò più Perché non mi va Di portare una cosa Solo perché Deve piacervi a voi Deve piacere prima di tutto A me Perché comunque Youtube è un hobby Io sono di questo parere Se porto un video a forza Viene fuori anche Un video di merda Il gioco che sto portando Deve piacere anche a me Ultima notizia fondamentale Sto tentando In tutti i modi Grazie Diciamo Di un'idea Che sto portando avanti Prendere un computer Da gaming E non Questo schifo Che da Milioni di secoli Io mi ritrovo Un computer portatile Che non soddisfa più Le mie esigenze E che adesso Ultimamente Solo per visualizzare Delle cazzo di foto Che erano quelle del mio diciottesimo Ci ha messo tre secoli Allora Vaffanculo Io ve lo voglio cambiare Cambiare Il computer Vorrebbe dire Portare più contenuti Vorrebbe dire Portare cose di qualità maggiore Vorrebbe dire Che quando si sta renderizzando un video Non devo mettermi così A fare A farmi A girare i pollici O a farmi le partite di Clash Royale A perdere pure No Posso fare altro Questa è la cosa importante Di avere un computer da gaming E vorrebbe dire appunto Anche portare altri contenuti Tra cui un gioco in particolare Che è diventato Il mio gioco preferito Ultimamente Si chiama Dead by the Light E molti di voi lo conosceranno Ehm Cesso Tu hai conosciuto questo gioco Solo perché l'ha fatto Zeb Nelle live No Lo conoscevo già da Miliardi di secoli prima Quando per la prima volta Lo portarono Jumpy Tech e Murray Sui loro canali Quando Zeb Non l'aveva ancora portato A partire da quel momento Io guardavo solo i video Di Jumpy Tech e Murray Di Dead by the Light Perché erano gli unici Che lo portavano Poi cominciò a portarlo Zeb E tutti gli altri E da lì è nata questa passione Se mai dovessi riuscire A farmi un bel computer Da gaming State sicuri Che Dead by the Light Arriverà su questo canale Ma state ne proprio certi Insieme ovviamente Anche ai vecchi format Se sto a merda Non ci sta zitta No Vaffanculo Grazie mille per aver visto Questo video Vi ringrazio ancora Vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Di iscrivervi al canale Per rimanere aggiornati Sui prossimi video Io vi auguro Buon Natale E vi auguro Un buon Natale Perché poi buone feste Per l'anno nuovo Ve le augurerò dopo Grazie a tutti E ciao Da CessnautX Grazie a tutti Buon Natale Buon Natale Buon Natale Grazie a tutti